Benvenuti in questo nuovo episodio, questo è l'episodio 3 di Road to Maggiora, tabelle numerate parte 1, adesso andremo a vedere appunto come, queste sulle tabelle della KX 125 1988, come erano del precedente proprietario, Fabio Rossi, adesso staccheremo le plastiche, le grafiche in crystal originali, vedete le stiamo scollando completamente, una volta scollate praticamente le useremo come Dima per creare delle nuove tabelle un po' old school, bianche completamente, vedete fodero di foglie A4 schifosi anche vedete in una maniera anche abbastanza oscena, diciamo che le altre le farò un po' meglio, e poi stacco ancora appunto il crystal dalla tabella anteriore, anche in questo caso, scollamento totale della tabella con il numero del precedente proprietario, eccoci qua, e il materiale che ci serve praticamente è la pellicola retino, che la potete trovare in tutte le Roa Merlin, in tutte le cartolerie un po' tecniche, ecco vedete che anche qua mi metto a cartare, diciamo, la tabella originale, perché vi farò vedere, intanto tagliamo con questo splendido art attack tutto quello che ne avanza di questa carta che ho appiccicato sul retro della tabella in crystal, facciamo tutto il contorno preciso, perfetto, in modo che non diventi più appiccicosa, in questo caso vi faccio vedere il barbatrucco che uso per replicare i fori, questi qua sono i fori in corrispondenza delle viti di fissaggio delle tabelle, io prendo una penna e continuo a circunnavigare il foro originale finché praticamente la carta verrà via in automatico, praticamente si forma il buco, eccole qua, le tre dime, come vogliamo chiamarle, prendo appunto la carta retino che potete trovare in tutte le cartolerie un po' tecniche, nei negozi di materiale tecnico da disegno, piuttosto che anche in qualche Roa Merlin, brico ok, brico man, quello che volete, ecco qua, foglio di carta bianca, perché è la categoria di 4 a cui appartengo io, anche se è un 125, la tabella è bianca, userò appunto queste tabelle vecchie, cui ho messo sotto la carta come Dima praticamente per disegnare sulla carta retino la tabella originale, poi semplicemente prendiamo una forbice e andiamo a ritagliare la sagoma che abbiamo praticamente inciso, scritto su questo foglio di plastica bianco, ecco così non dà molto l'idea di essere un lavoro fatto preciso, però vedrete che poi alla fine, vedete, ecco, corrispondenza perfetta della tabella anteriore, andiamo a staccare un lieve lembo, vedete la carta retino come è fatta, dietro è millimetrata per poter fare anche dei lavori, io stacco appunto per poter prendere delle misure, per poter prendere appunto dei riferimenti, se dovete fare delle sagome particolari, si stacca un lembo praticamente della carta di sotto in modo che riuscite a posizionare, trovare la posizione precisa della vostra sagoma, poi un po' alla volta togliete da sotto e spingete bene, magari potreste usare quelle spatoline da wrapping che vanno tanto di moda adesso, per far uscire tutta l'aria, tutte le bolle da sotto la tabella anteriore, ecco, tabella anteriore praticamente completata, vado a spingere negli angolini perché sono rimaste delle micro bolle d'aria, però direi che il lavoro è venuto egregiamente, prendo anche una delle tabelle laterali, la più difficile, quella bombata dalla parte del silenziatore, e vado a usare come sagoma per scrivere appunto su questa plastica retino, e poi nella stessa maniera praticamente vado a ritagliarla, vedete, preciso, perfetto, sempre fatto il lavoro diciamo con la penna per rimuovere praticamente la plastica negli angoli in corrispondenza delle sedi bulloni, dei bulloni di fissaggio e anche qua si comincia un po' alla volta, si toglie la plastica da un pezzettino, un po' alla volta si spinge, io uso le dita, mi sono consumato, ecco, se non volete tagliarvi le unghie praticamente fate questo lavoro tutti i giorni e vi consumerete completamente le unghie delle mani, lavoro molto diciamo di pazienza, io su queste cose ci vado abbastanza a nozze, mi diverto parecchio e quindi ci perdo volentieri del tempo, con 50 euro vi fate le tabelle in cristal e fate prima, però volevo farvi vedere un po' come si faceva una volta, old school, una volta c'era solo queste, in questa qua che è bombata praticamente non verrà, si formerà sempre una sacca d'aria quindi in quella zona lì, quindi prendete un cutter, fate un taglio proprio in corrispondenza della parte della gobba praticamente in versione orizzontale e praticamente sovrapponete lievemente due lembi della tabella e vedrete che non ci saranno più bolle d'aria sotto e il problema è che o la scaldate col fondo a carrozziere e riuscite a plasmarla o se no fate una lieve incisione e praticamente viene via anche il punto in cui si forma appunto la sacca d'aria. Anche qua c'era un'altra, un ulteriore punto dove da rimuovere, dicevamo un ulteriore punto da rimuovere in quella zona lì e sempre con la penna e praticamente un cutter andiamo a rimuovere appunto completamente la plastica da quel punto. Quante volte ho detto punto lo so solo io, va bene l'unica cosa che vi ricordo è che la settimana prossima uscirà la parte 2 di questo video dove realizzeremo praticamente i numeri da applicare alle tabelle e non vi resta che iscrivervi al canale Checco De Giacal seguirci su Instagram e tutti i vari canali social di Radio Macello. Appuntamento a settimana prossima con il prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!